amici giallorossi di tutto il mondo e l'universo buongiorno un calcio a tutti allora oggi è mercoledì 11 settembre a Roma sono iniziate le scuole oggi sono iniziate per i miei due ragazzi che iniziano una nuova avventura medie e superiori medie al maschietto, superiori alla femminuccia insomma contenti ed emozionati tutte e due speriamo che sia un ottimo anno per tutti i nostri studenti, i nostri figli, i nipoti che iniziano questo nuovo percorso formativo in bocca al lupo a tutti loro ai vostri figli, ai vostri nipoti ripeto, in bocca al lupo a questi ragazzi che saranno la nostra forza fra qualche anno quando entreranno nel mondo del lavoro dovranno insomma ribaltare la situazione questa società che è sempre più complicata sempre più insoddisfacente tutta insomma la nostra fiducia deve essere su di loro, sui nostri ragazzi speriamo bene, in bocca al lupo ragazzi allora prima di iniziare con gli argomenti di oggi anche se sono ancora pochi ci sono poche notizie su cui concentrarsi ma ci sono in attesa insomma di arrivare domenica e tornare finalmente a vedere la Roma gioca vi ricordo iscrivetevi al canale attivate la campanella mettete un sacco di pollicioni condividete con gli amici commentate e ditemi cosa ne pensate di ciò di cui vi parlerò in questo video vi ricordo che potete sostenermi abbonandovi al canale per voi in esclusiva tutti i contenuti dall'Olimpico live, emotions, vlog tutto quanto in esclusiva per gli abbonati quest'anno vi ricordo anche il canale Whatsapp un canale Whatsapp dove vi chiedo il vostro parere tramite sondaggi vi posto le ultime notizie dal mondo Roma e calcio in tempo reale e soprattutto sarà un mezzo per comunicare l'andamento del Fantamax Fantamax che è andato oltre ogni rosa e previsione che amo io e Gianfranco siamo 55 squadre mancano ancora due giorni quindi mi raccomando se volete divertirvi insieme a noi non solo nel gioco ma anche poi nelle live successive alla giornata avete tempo fino a venerdì a mezzanotte dopodiché da sabato mattina se mettono le formazioni si inizia a giocare quindi mi raccomando ancora 48 ore e poi a breve ci sarà una live seguite il canale e attivate la campanella ci sarà una live in cui faremo un attimo un recap di tutte le regole un recap di tutte le situazioni presenteremo le squadre quindi seguite il canale e attivate la campanella mi raccomando iscrivetevi al canale Whatsapp per rimanere aggiornati allora ragazzi ieri Tommasino Baldanzi ha fatto una tripletta strepitosa nel 3-0 dell'Italia sulla Norvegia dell'Under 21 ovviamente e quindi insomma dimostra che ragazzo sta sta in forma sta in forma ragazzo l'ha dimostrato anche con la Roma certo non è facile incidere in una squadra come la Roma incidere giovanissimi a vent'anni come Baldanzi nel campionato maggiore è ovvio che con i pari età la qualità del ragazzo se vincete più e l'ha dimostrato ieri ma anche la forma c'è l'avevamo visto noi quindi sicuramente Baldanzi poi con la nuova posizione che gli ha ritagliato De Rossi che è molto interessante perché gli permette insomma a Tommaso Baldanzi di giocare più palla di avere più campo davanti a lui di essere meno contrastato quindi di soffrire meno di andare meno in frustrazione molto interessante anche se ovviamente il nazionale fa tutt'altro ruolo e sta un po' più avanti e si è visto ieri quello che è in grado di fare insomma una tripletta non la fa certo un giocatore che non ha qualità quindi Tommaso Baldanzi damogli tempo ragazzi perché ci darà le dovute soddisfazioni ovviamente questo esploat di Baldanzi mette ancora se ce ne fosse bisogno ancora più in come dire in crisi quella che può essere la presenza nel centrocampo dei Pellegrini che invece è in un momento di involuzione possiamo dirlo senza insomma far gridare allo scandalo a nessuno succede purtroppo negli ultimi tempi succede succede molto spesso a Lorenzo questo ci dispiace ma l'interesse primario ragazzi deve essere quello della squadra quindi deve giocare chi è più in palla l'ha detto De Rossi farò giocare chi ha più gamba e quindi caro Daniele fammo giocare chi ha più gamba e mi pare che Baldanzi ce l'ha un altro che a centrocampo sicuramente avrà a meno dei clamorosi cambiamenti finali è Manu Conè perché è stato insomma incensato anche in Francia dai giornali dal tecnico dal CT del Champs questo ragazzi è il centrocampista completo finalmente è il centrocampista completo c'ha tecnica c'ha corsa c'ha forza insomma veramente è in grande acquisto secondo me quello che abbiamo fatto ci avevamo visto bene ora deve solo confermarlo con noi ma i primi minuti a Moïsta Torino insomma ragazzi se vede subito il buongiorno se vede dal mattino è per quello che io sostengo sempre perché Lefe è un giocatore normalissimo ed è stato un capriccio dei chisolfi mi pare tanto Lefe la scommessa personale depinto con Renato Sanchez solo che questa è molto costosa perché poi ripiazzarlo a 20 milioni 23 e quanta abbiamo pagato sarà impossibile però speriamo insomma io spero sempre che sbagliarmi ragazzi su pareri personali poi ditemi voi che ne pensate certo Lefe abbiamo visto veramente poco abbiamo visto un amichevole qualche spezzone le partite in campionato sicuramente nell'ultima partita è andato meglio poi c'è stata insomma sta se non sbaglio sta non la contrattura però insomma c'è avuto un problema muscolare che adesso ha assorbito quindi dovrebbe dovrebbe far parte anche lui della rosa che andrà a Genova ad affrontare il grifone quindi vediamo un attimo certo insomma a centrocampo Baldanzi e Cone se fanno avanti prepotentemente ora bisognerà capire soprattutto dopo la trasvolata oceanica di Paredes chi tra Paredes e Cristante ma io così a lume da naso opto per secondo ma anche credo Daniele perché è stato a Roma s'ha allenato non ha fatto viaggi quindi sarà sicuramente più pronto di Leandro Paredes per gioco da titolare quindi io mi aspetto Cristante nuovamente al centro del centrocampo in un ruolo dove lui funziona dove può dare in contributo anziché come mezzana e poi a sto punto mi aspetto Pisigli e Cone questo è il centrocampo che mi aspetto domenica vista anche la situazione fisica di Lorenzo Pellegrini questo tipo di centrocampo potrebbe anche favorire la presenza contemporanea nuovamente di Tibala anche se bisogna risolvere la grana Dobbic nel senso che bisogna capire l'Ucraino se sarà pronto abile o ruolabile domenica visto che anche lui ha subito un infortunio nazionale non una cosa gravissima ma sicuramente una cosa che va monitorata va vista a Tricoria e va valutata per non rischiare non stop più lungo che andrebbe a incidere l'ambientamento l'inserimento nelle dinamiche di squadra da parte del nostro nuovo Bombers spera quindi De Rossi sicuramente ha tanta ciccia da valutare vediamo come se la giocherà e a Genova ripeto sarà una partita fondamentale perché bisogna iniziare bisogna fare una vittoria che il campionato ormai è iniziato dal mese quindi bisogna trovare questa prima vittoria del campionato e soprattutto bisogna risalir in pagina stiamo solo a due punti dopo tre partite già stiamo belli indietro insomma dalla vetta stiamo a cinque punti che a tre giornate sono tantissimi se ci pensate praticamente se ci fosse ancora i due punti è come se hai perse tutte quindi insomma la Roma deve risalire la china deve cercare la vittoria a Genova ai giocatori alla squadra ai mezzi per farlo però ripeto che per noi comunque il Marassi è da sempre uno stadio ostico e difficile dove andare a vincere abbiamo sempre fatto fatica con il rosso-blu e con la Samp ripeto è sempre stato un pochino meno l'atmosfera del Marassi quando gioca al Genova è veramente coinvolgente è molto vicina a quella del nostro olimpico giallorosso quindi la Roma dovrà fare una prestazione perfetta perfetta per portare a casa la vittoria ovviamente se il Genova darà come sempre fa il cuore in queste partite e questo ce lo dobbiamo aspettare per quanto riguarda Zaleschi Zaleschi insomma lo danno sempre più vicino al Gala da Sarai ne parlavamo ieri che insomma c'è chi dice ma meno male incartiamo io porto yoga a Panda e c'è chi dice speriamo che non sia un rimpianto io sto d'accordo con tutte e due le versioni perché anch'io insomma credevo che credo tuttora che Zaleschi abbia del talento perché ripeto è inspiegabile che il giocatore possa essere titolare nella Polonia no voglio dire nel Luzbekistan con tutto il rispetto per i giocatori sbeghi però titolare una nazionale importante come la Polonia dove ci sono giocatori importanti come Lewandowski oltretutto testo le loti no testo il giocatore e poi invece Roma non riesce a rendere c'è qualcosa che ci sfugge qualcosa che non sappiamo qualcosa a livello mentale che non va e che non permette al ragazzo di rendere come dovrebbe questo io credo che sia compito di chi sta a Tricoria di chi lo frequenta di chi lo vive di chi sa qualcosa più di noi capire qual è il problema mentale che ha sto ragazzo il blocco mentale che ha sto ragazzo e perché non è riuscito a rendere ora la sua cessione sicuramente darà ossigeno alle casse giallorosse al bilancio e a tutte le regole del fair play finanziario settlement agreement e batte la pesca però logicamente è un'altra sconfitta perché lo dicevamo ieri di tutti i famosi bambini di Murigno non ne rimane nessuno non ne rimane nessuno e questo sinceramente è un peccato è quello che dicevo ieri è già un pronto futuro rimpianto alla Frettesi e alla Scamacca e ai mille giocatori che sono passati per Roma e poi sono esplosi da altre parti io spero spero insomma che ovviamente per ragazzo spero che abbia la carriera soddisfacente spero che la Roma non abbia sbagliato a cederlo che non diventi in crack qualcuno adesso si metterà a ride sentendo sta cosa ma io se vedo Fratesi se ripeto Fratesi che ho visto a nazionale ragazzi è un giocatore strepitoso Fratesi è un giocatore veramente strepitoso che farebbe le fortune di qualsiasi club anche straniero e di livello quindi insomma ho paura ho paura che ogni volta che decidiamo decida un giovane ma anche un milione oltre che Zaleschi a 10 milioni sia sia un po' una fesseria vediamo vediamo se le valutazioni fatte da Daniele De Rossi dalla società poi bisogna vedere chi più e chi meno che Zaleschi ci ha dimostrato De Rossi che ci tiene un po' di più rispetto a quanto ha dimostrato di tenereci a Edoardo Bove invece l'opinione pubblica era al contrario di Daniele teneva più a Edoardo Bove per impegno per dedizione per tipo di giocatore piuttosto che a Zaleschi che invece negli ultimi due anni ha nervosito un po' il pubblico con prestazioni scadenti al di sotto di quello che ci aveva mostrato nel primo anno di Murigno ed è quello che ci mostra poi quando va a nazionale perché è tutto un altro giocatore quindi ripeto secondo me la certezza che questo sia un giocatore di livello Nicola Zaleschi ci sta il problema è che bisogna capire perché a Roma non rende se lui non non regge la pressione di Roma dei tifosi oppure c'è qualcosa di personale che quando va via da Roma si sente libero e si riesce a esprimere io questo non lo so va potete sapere chi sta a Tricoria però ripeto speriamo che non sia non sia un peccato intanto una cosa per far verire il nostro amico Sderenato Sanchez è ritornato ai vecchi fasti si è subito fatto male in allenamento per Benfica quindi insomma conferma è una cosa che farete però ripeto sto giocatore purtroppo è un talento assoluto limitato da sti infortuni io non lo so se è questo oppure se è il fatto che la ricchezza ti porta a non allenare più con dedizione con attenzione e quindi poi dopo quando allunghi un pochino ti fai male perché è logico se tu non ti alleni bene sti ritmi da professionista mi pareggia e il corpo dopo li rifiuta li rifiuta infortunando se no se blocca la gamba dicevo ma che sta a fare ma all'improvviso andiamo a 2000 all'ora tu mi devi abituare a andare a 2000 all'ora gradualmente costantemente e poi io te ce vado credo che sia questo perché a inizio carriera non aveva questa frequenza Renato Sanchez era veramente mostro poi dopo secondo me ha visti i sordi e come l'80% dei giocatori professionisti insomma ha detto cosa che c'è come Carzor poi non so mi ardario ma che me frega ma che me frega del giocamento basta che me pagano ma questa ripete l'impressione mia va bene ragazzi allora io quello che dovevo di ho detto mi tocca a voi commentate ditemi cosa ne pensate di questi due tre argomenti che ho analizzato e soprattutto scrivetemi nei commenti facciamo questo gioco secondo voi il probabile 11 della Roma domenica a mezzogiorno e mezza a Genova ok vediamo chi di voi ci prende quindi mettetelo nei commenti la probabile formazione della Roma domenica a mezzogiorno e mezza ricordiamo lunch match per la Roma a Genova vi mando un bacio grande ci vediamo al prossimo video che spero sia il prima possibile ciao 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 ciao